Ciao a tutti, sono Alessandro Bertola e oggi vi presento il nostro videoconfronto tra due prodotti apprezzatissimi sul mercato italiano soprattutto, vi sto parlando del Motorola Moto G e del Nexus 5, due prodotti che possono essere considerati diversi ma che hanno un cuore molto ma molto simile, tanti utenti ci hanno chiesto quale comprare a seconda anche della differenza di prezzo che non è piccola, quindi meglio risparmiare e andare su un Moto G o meglio spendere qualcosa in più e andare su un Nexus 5. Eccoli qui di fronte a noi, il Nexus 5 sulla destra e il Motorola Moto G sulla sinistra. Partiamo subito con differenze di design abbastanza nette, il Nexus 5 è subito sensibilmente più grande, più che altro a livello di display abbiamo quasi un 5 pollici, mentre con mezzo pollice in meno troviamo il Motorola Moto G. Dimensioni che però non vanno a incidere sul peso, quasi una differenza di 20 grammi tra i due modelli, con però quello più leggero che è il Nexus 5, 130 grammi contro circa 150 grammi. Peso che, allora, tenendoli contemporaneamente tutti e due in mano lo percepiamo, ma utilizzando solamente il Moto G possiamo dire che alla fine il peso è molto molto bilanciato e non dà assolutamente fastidio il peso superiore del Moto G, anzi può risultare anche piuttosto spiacevole. A livello di altezza, come vediamo, la differenza è abbastanza incisiva, li allineiamo e abbiamo più o meno un centimetro di differenza, la larghezza è una differenza invece di mezzo centimetro, mentre lo spessore è a vantaggio del Nexus 5, come potete vedere, molto molto più bombato il Moto G. Bombatura che alla fine non si fa sentire né in tasca né in altre condizioni e risulta essere piuttosto piacevole, infatti questo Moto G è piuttosto confortevole da tenere anche con una sola mano. Come potete vedere le mie dita non ho una mano grandissima, riescono a tenerlo saldamente con una sola mano e a fare quasi tutto, a riuscire a coprire quasi tutta la superficie del display. Nexus 5 è più spigoloso, meno confortevole da tenere in mano, non tanto per la sua larghezza ma più che altro perché la spigolosità e la cover posteriore sono di materiali meno comodi, non dico più scadenti perché alla fine il Moto G presenta una cover che mantiene tantissime ditate, un aspetto che purtroppo ci verrà costretti a pulirlo frequentemente. abbiamo inoltre però una rifinitura molto bella al posteriore del Nexus 5 con la scritta Nexus e il logo LG visibile soprattutto nella versione bianca, mentre il Moto G ha questo logo, anche questo molto carino, che può essere anche utilizzato per tenerlo tra l'altro e quindi un altro fattore di comodità e di comfort nel piccolo di Motorola. A livello di tasti troviamo solo una dislocazione differente, il Nexus 5 mantiene il bilanciere sulla sinistra e il tasto di blocco sblocco sulla destra, il Moto G tutto sulla destra, quindi una scelta di design puramente estetica. a livello di comodità ci troviamo più o meno negli stessi livelli, la struttura dei pulsanti è reattiva, è molto piacevole al tatto sia con il Moto G sia con il Nexus 5, quindi assolutamente paritetici da questo punto di vista. passiamo ora ad un altro aspetto, ovvero un aspetto che mi piace sottolineare da un po' di tempo, è il fatto di come inserire la sim, qua dovremmo avere la solita punta in dotazione, la punta di un orecchino o uno spillo per aprirlo, quindi una cosa che non riusciamo a fare sempre nelle emergenze, il Moto G almeno ci consente di cambiare la sim attraverso lo slot apposito posto qua in alto a destra, come potete vedere sim, batteria non è rimovibile pur essendo qua in bella vista, niente slot per la micro SD in nessuno dei due casi, quindi maggiore comodità da questo punto di vista a livello del Moto G non è difetta neanche l'estetica o la compattezza. Passiamo all'hardware, hardware, accendiamo il nostro piccolo Motorola, hardware che vede in vantaggio abbastanza nettamente il Nexus 5, soprattutto negli aspetti basilari come display, display che risulta molto migliore e superiore a livello di dettaglio, soprattutto e leggermente di luminosità. Non possiamo dire lo stesso per i contrasti, migliori quelli del Moto G, anche se il dettaglio è fondamentale, abbiamo qua quasi 440ppi, qua ne abbiamo almeno circa 100 in meno, questo infatti è un 4.95 pollici full HD, Moto G è un 4.5 pollici HD ready, quindi per chi passa da un full HD a un HD ready la differenza si fa vedere e come. Imposto un po' più luminoso il Moto G, Moto G che ha un sensore della luminosità tra l'altro poco generoso, sempre molto scura l'immagine con il sensore impostato in automatico. interfaccia che sembra diversa ma Android è presente nella medesima versione, solamente non c'è e abbiamo preferito non metterlo, il launcher di Google. Come potete vedere è versione 4.4.2, il Moto G è uno dei pochissimi non Nexus a poter godere di questa versione, versione che è assolutamente fluidissima su device di questo tipo, come potete vedere qualche piccolo lag, l'abbiamo appena acceso, sta anche scaricando un po' di roba, quindi abbastanza normale. Torniamo nel Nexus 5, proviamo ad andare nel drawer, in tutti e due casi, come potete vedere velocissimi in tutti e due, non c'è praticamente lag. Processore, processore abbiamo uno Snapdragon 800 di Qualcomm qua a destra con Nexus 5, qua abbiamo uno Snapdragon sempre quad core 400 sul Moto G. Differenza si sente, si sente soprattutto nei giochi, giochi come per esempio Asphalt 8, abbiamo visto come scatta un po', scendiamo sotto i 30 fps, a volte c'è capitato. Quindi non è proprio un telefono adattissimo ai giochi questo Moto G. Tra l'altro è arrivato appena adesso un piccolo aggiornamento di sistema, deve essere minore, non lo facciamo. Allora, RAM, RAM raddoppiata nel Nexus 5, 1 GB invece nel Moto G, differenza che si sente con tante app aperte, con tante app aperte notiamo questa differenza, è anche abbastanza marcata. A livello invece di scrittura, scrittura tramite la tastiera, andiamo su Hangout un secondo. tastiera che è praticamente paritetica ad Nexus 5, cambia giusto le dimensioni, è solo una questione di puro adattamento. scusate ancora, allora, parlavamo poi ancora dell'hardware, volevo soffermarmi sullo storage interno, storage interno 16,32 GB sul Nexus 5, 8,16 GB sul Moto G. La situazione è identica, ovvero se si risparmia, in entrambi i casi, considerate il fatto che un gioco ormai va a pesare quasi 2 GB, quindi si saturerà in frettissima la memoria. Moto G ha addirittura venduto in versione 8 GB, quindi un caso ancora più estremo, per questo vi consiglio assolutamente di andare sulla 16 GB, un po' di musica, un po' di foto, un po' di video, in un attimo si va a riempire, pur il firmware occupando in entrambi i casi veramente, veramente poco. Android anche nel Moto G è quasi stock, non ci sono grandi personalizzazioni, quindi da questo punto di vista il sistema è piuttosto pulito e snello. Un altro aspetto che invece è a favore del Moto G è la parte telefonica e di ricezione. Il Moto G è sempre un goccino sopra a livello di ricezione, una tacca in Wi-Fi, una o due tacche con la normale connessione 3G. Aspetto da non sottovalutare, il Nexus 5 si comporta comunque bene, però nel caso ci trovassimo in situazioni abbastanza estreme, il Moto G potrebbe ancora farcela il Nexus 5, magari no. Andiamo invece ora ad analizzare un altro, la parte hardware e la parte software, come potete vedere applicazioni, adesso questo è il mio personale di Nexus 5, quindi ne vedete molte, ma alla fine di applicazioni preinstallate, a parte quelle Google, non ce ne sono. Sul Moto G, Motorola ne aggiunge una manciata assist che ci consente di poter godere di profili personalizzati a seconda della situazione in automatico, per esempio impostando un orario preciso, come qua 23.6 o durante le riunioni. lui potrà anche rispondere in automatico a qualche messaggio con un SMS preimpostato. Niente di particolare, volevo sottolineare la presenza della radio FM, radio che secondo me in Italia andrebbe sempre messa, visto che non abbiamo un traffico dati enorme a poter ascoltare la radio senza spese aggiuntive, a volte è una vera manna dal cielo. Per il resto, il dialer anche in questo caso è uguale, come potete vedere, stesse schermate, stesse impostazioni, stesso funzionamento. Anche qua Motorola non ha voluto cambiare niente. questa schermata di Google Now è solo questione di Lancer, potete attivarlo, scaricarlo senza problemi, possiamo accedere anche attraverso la comoda scorciatoia. Volevo mostrarvi una comparazione tra navigazioni web, andiamo su Chrome, ok, Nexus Lab, Nexus Lab, ok, e ora vediamo quale riesce ad essere leggermente più veloce. Come potete vedere c'è una piccola differenza di scroll, leggermente più morbido nel caso del Moto G, come potete vedere, un po' più elastico, un po' più meccanico nel Nexus 5. Questa è proprio una questione di settaggio del touch. 1, 2, 3, ok, purtroppo qua ci ha caricato la versione mobile, quindi non può essere un punto di riferimento. Torniamo un attimo indietro e proviamo con un altro articolo, ok, 1, 2, 3, qua non l'ha preso, anzi l'aveva preso, soltanto che non c'è noto l'indicazione. Facciamo la prova del 9 e in questo caso comunque è stato molto più veloce il Nexus 5, come ci si poteva tra l'altro aspettare. 1, 2, 3, facciamo una prova direttamente dall'articolo, così per scongiurare dal link G Pro che ci troviamo nell'articolo. In questo caso ho caricato in tutti e due i casi la versione mobile più veloce nel Nexus 5 in tutti i casi. Vi faccio vedere solo una cosa, angolo di visuale praticamente ottimo in tutti e due. Si scurisce un pochino il Nexus 5 superato i 25-30 gradi, ma poi rimane costante, quindi un difettuccio non da tanto. Come puoi vedere anche qua il Moto G si comporta forse leggermente meglio. Poi, torniamo indietro. Altre piccole differenze, non è che ce ne siano più di tanto, abbiamo però una netta, nettissima, anzi differenza, nel comportamento lato multimediale. Lato multimediale, vi parlo soprattutto dell'altoparlante, prima di tutto, andiamo sulla nostra cartella di prova, ok, ok, confronti, test. Vi volevo fare soprattutto sentire la qualità dell'altoparlante come differenza nei due casi. Prima, partiamo con il Nexus 5. Mettiamo al massimo. Forse lo sapete meglio di me, l'audio non è niente di che nel Nexus 5 e si sente. Sentiamo ora il Moto G. Nettamente meglio il Moto G sotto ogni punto di vista. Infatti, è molto più pulito, sia pulito sia meno freddo. Si sente una gamma di frequenze più alta, il suono è più alto, pur essendo uno smartphone di minor livello. Passiamo invece a un video. Direi di iniziare direttamente con un video in alta risoluzione. Un secondo che carica. Perfetto tra l'altro. Facciamo caricare un secondo. Facciamo caricare un secondo. Facciamo caricare un secondo. Facciamo caricare un secondo. Allora... Avete notato subito dei colori più belli, è un dettaglio maggiore nel Nexus 5, un nero migliore nel Moto G. Entrambi, tutti e due i device si comportano in maniera egregia, leggermente meglio il Nexus 5. Altra differenza è nel reparto fotografico. Reparto fotografico che nel Nexus 5 è migliore, prendiamo per esempio, abbiamo qua la portata, un Lumia 1520, gli facciamo una bella foto. Questo è il Moto G, che ha funzioni interessanti a livello fotografico ma mette male a fuoco e ha una definizione inferiore, con foto molto più rumorose. Nexus 5, che si comporta meglio, pur avendo qualche funzione in meno. Per esempio il Moto G presenta questo menu, molto comodo tra l'altro, che ci consente di registrare video in slow, di girare, di avere l'HDR automatico, secondo delle condizioni. Due funzioni che vanno molto bene, funzionano egregiamente, purtroppo il sensore è quel che è, ci dovremmo un po' accontentare. Il Nexus 5 non è un mostro a livello fotografico, però si comporta nettamente meglio. Quindi, andando a concludere, togliamo qua l'intruso, Moto G ha 199, 169 euro online, o Nexus 5 ha 339, 350 euro. È difficile a dirsi, uno, dipende dal vostro budget, se non avete tanti soldi per forza di cose Moto G. Se avete la disponibilità, però magari non vi dispiacerebbe risparmiare qualcosa, qualche rinuncia c'è da fare con il Moto G. Non tantissime, soprattutto dal lato videoludico, qualche rinuncia da fare. E bisogna sperare che Motorola mantenga la parola data, aggiornando il suo dispositivo per molto tempo. Cosa che invece con il Nexus 5 siamo tranquilli, almeno per quasi due anni. Direi che è tutto, se avete domande potete farcele nei commenti, sia del video che dell'articolo. Vi saluto da Alessandro Bertola, è tutto.